Gigi l'altro presenta il suono del fabbro 14 tracci inedite, disponibili in preordine su iTunes dal 1 giugno Online in tutti i portali di vendita dall'8 giugno Questa è la triste storia di due pianeti da sempre in guerra Una è la terra e l'altra è la terra E l'universo intanto guardava e la storia ricominciava Gigi l'altro presenta il suono del fabbro 14 tracci inedite, disponibili in preordine su iTunes dal 1 giugno Online in tutti i portali di vendita dall'8 giugno Grazie a tutti! Grazie a tutti.